Una dipendente della metro britannica è morta di Covid-19 dopo lo sputo di un uomo che gridava di essere infetto. Belly Muinja lavorava come controllore nella stazione Victoria. Era il 22 marzo. Insieme a lei c'era anche un'altra collega. Sono uscite dalla barriera e hanno visto questa persona. Gli hanno chiesto cosa ci fa qui. Per tutta risposta a lui le ha sputate. Le due donne si sono ammalate di lì a poco e Muinja è morta in ospedale il 5 aprile per problemi respiratori. Non hanno ricevuto maschere, guanti. Sono state esposte. Sono i suoi datori di lavoro, l'azienda, lo Stato a doverle fornire. Io e Ingrid, la figlia, abbiamo visto Belly il 2 aprile quando è partita per l'ospedale e quindi non l'abbiamo più vista. È morta. L'abbiamo seppellita senza poterle dare un ultimo saluto. Al momento non è stato ancora confermato come Muinja abbia contratto il virus. Il sindacato ha avviato un'indagine perché troppe domande restano senza risposta nella gestione dei dipendenti all'inizio della pandemia.